Con Luciano Zauri cominciamo con il fare un po' un bilancio di questo lavoro fatto a Palena. Quanto sei contento? Molto contento, anche la mia prima esperienza. Avevo voglia di mettermi in mostra, di parlare con questi ragazzi, di farmi conoscere, di conoscere soprattutto loro, che poi sono loro gli interpreti, gli protagonisti appunto del calcio. Quindi è stato un ottimo periodo, abbiamo lavorato molto bene. Palena è stato un ottimo ambiente per noi, anche con un discorso di clima. E quindi niente, un bilancio assolutamente positivo. Abbiamo smaltito un certo tipo di lavoro, adesso affrontiamo la seconda parte, quella che poi ci porterà al campionato. 4-3-3 è il tuo modulo base a Palena, hai lavorato tatticamente anche su altri sistemi, se sì quali? Beh, allora qualche volta abbiamo lavorato anche su con le due punte, faremo restando un modulo iniziale che può essere 4-3-3, chiaramente avendo dei giocatori davanti che hanno carattestiche diverse, si può pensare anche a giocare con due punte. Due punte con il trequartista o un 4-4-2? Ma entrambi i ruoli vanno bene. Quando giochi con due punte e hai un centrocampo magari che ha delle mezzali che si possono adattare a giocare sotto due punte, diventa un 1-2. Quindi non ci credo molto, credo molto in interpretazione dei ruoli. Parliamo di mercato, è stato un mercato importante fino a questo punto del Pescara, cominciamo con i difensori. Il Presidente ha detto non rimpiazzeremo per Rotta che è andato via, a me Zauri non ha chiesto nulla, ci conferma chiaramente. Moi di Presidente non ho chiesto niente in particolare, ho chiesto di allestire una rosa forte. In difesa va bene per Zauri? Li sono messo bene, ho molto rispetto di chi c'è, degli assenti non possiamo parlare perché chiaramente non parliamo di nulla. Ripeto, per qualsiasi riparto vale il discorso, se arriva gente forte, più forte di quella che io, ben venga, altrimenti non vale la pena comprare per comprare. Quindi se dovesse arrivare una buona occasione anche in difesa è ben accetto? Ben accetto sicuramente, ma questi sono discorsi che devi fare con il Presidente eccetera, però chiaramente il discorso è sempre quello, i giocatori bravi servono. L'alternativa del grosso, vedi di più Elizalde e Crecco o un adattamento di Balzano e Ciofani che l'hanno già fatto? Ma guarda, sono tutti i nomi che possono ricoprire questo ruolo, è chiaro che il grosso rappresenta la certezza e l'affidabilità per averlo fatto sempre. Elizalde è un giocatore che secondo me lo può fare, Balzano l'ha già fatto anche negli anni precedenti e Crecco è un giocatore che per corsa e per qualità si può adattare. Abbiamo fatto un po' tutte queste situazioni, ritiro, abbiamo lavorato, abbiamo provato un pochettino e Crecco in un ultimo periodo ha avuto un leggero problemino muscolare, si è fermato, quindi abbiamo un pochettino rallentato il suo adattamento in quel ruolo, però secondo me lo può fare. Marrassa andrà via? Marrassa ad oggi sta con noi, non ne ho idea, perché chiaramente è un giocatore che si allena tutti i giorni a 100 all'ora e lo prendo sempre ad esempio, poi se dovesse andare perché magari anche lui chiede di andare via sarà un discorso diverso. Tuminello, Maniero e Brunori, lì sei completo numericamente, le prime indicazioni di Brunori? Un ragazzo molto intelligente, un giocatore che sa stare in campo, può ricoprire più ruoli, per cui è un ragazzo molto interessante, è chiaro che è appena arrivato, quindi ha bisogno anche di integrarsi con il gruppo. Per quanto riguarda anche gli altri, Tuminello sta lavorando bene, Maniero sta lavorando bene, anche lui comunque si avviene da un periodo dove ha giocato magari di meno, quindi ha bisogno di fare un po' di esperienze, un po' di campo per quanto riguarda anche il lavoro con i ragazzi, anche i lavori fisici eccetera, però è un ragazzo che ha voglia di mettersi in mostra così come gli altri. Chiudiamo con il centrocampo, con Ciocev hai parlato un po'? No, non ho avuto modo di parlare né con lui né con Melegoni, è chiaro che sono ragazzi che arriveranno più avanti perché purtroppo vengono dei infortuni gravi. Ad oggi con le partenze di Gaston e di Canutè hai Palmiero e Bruno nel ruolo di metodista, numericamente ti va bene? In mezzo al campo per quanto riguarda il play siamo messi bene, nel senso che abbiamo due alternative, Palmiero e Bruno, Memuschiai lo può fare. Proprio dovessi farla una richiesta al presidente, considerato difesa, centrocampo, attacco, cosa chiederesti? Cristiano Ronaldo, almeno vinciamo sicuro le partite. Non messi? Non messi, Cristiano Ronaldo.